Alessio De Carne, direttore vendite della Omer, chiediamo, Alessio per te quali sono tre consigli utili per scegliere l'attrezzatura? Ciao a tutti, l'attrezzatura secondo me deve essere affidabile, affidabile perché deve darci la sicurezza quando entriamo in acqua di poter completare la nostra pescata al meglio divertendoci, poi deve essere adatta al nostro utilizzo, questo è molto importante perché a volte acquistiamo attrezzature che non sono le attrezzature più adatte per il nostro stile di pesca, il terzo consiglio invece è di utilizzare attrezzature con un buon rapporto qualità prezzo, è sicuramente un fattore fondamentale perché a volte si vanno a spendere tanti soldi su apprezzature costosissime che poi non sono quelle che hanno invece servono per realizzare i carnieri più belli e non è un caso che i nostri atleti nel team utilizzino attrezzature di tutti i tipi per realizzare catture bellissime. Ciao a tutti, a presto!